Dal reddito di inclusione al reddito di cittadinanza in tutto il mezzogiorno, la macroarea più povera d'Italia, c'è bisogno di studiare e coordinare al meglio le misure di contrasto della povertà. Nasce da qui il confronto tra le regioni del sud che presso l'auditorium della regione Campania ha portato a dibattito esponenti del mondo delle professioni e del terzo settore, al fianco dei rappresentanti istituzionali. Ascoltiamo l'assessore al lavoro della Campania, Sonia Palmeri. Non esiste una sola povertà, non può essere affrontata esclusivamente con una presunta inclusione lavorativa. Dobbiamo invece immaginare la cura delle fragilità che sono le più varie. La povertà è non solo povertà reddituale ma è anche povertà abitativa, è anche una povertà che nasce da una disabilità forte che non permette la capacità lavorativa. Nel REI affrontavamo tutto questo presso i comuni che hanno uno staff multidisciplinare per accogliere queste fragilità e curarle. Ora invece ci sono i centri per l'impiego che sono lo snodo unico a cui affidare queste sensibilità. Ma non si può contrastare la povertà soltanto. Con le misure di assistenza c'è bisogno di creare un'inclusione totale a 360 gradi, lo ha detto l'assessore alle politiche e sociali Lucia Fortini. La lotta non deve essere alla povertà ma alle povertà che non sono solo povertà economiche e allora una serie di azioni per aiutare una persona che è in difficoltà, che è alla deriva, a tornare a Riva. Questo è quello che sta cercando di fare la Regione Campania. Tra l'altro sta partendo il progetto IT a 60 milioni di euro proprio per una serie di azioni di formazione, di inserimento lavorativo, di contrasto alla dispersione scolastica che possano aiutare l'individuo e la famiglia a ritrovare serenità. E sul reddito di cittadinanza non mancano critiche da chi, come l'assessore al welfare della Regione Calabria, Angela Robbe, avrebbe voluto dare continuità ad altri programmi già esistenti. Sentiamo. Noi riteniamo che vada data continuità alle misure. Abbiamo attraversato nel corso di questi anni una serie di misure che tentavano e hanno tentato di superare il problema o di affrontarlo in maniera strutturale. Oggi ci ritroviamo a ricominciare con un'altra misura. Ora, riteniamo che sia importante avere un sostegno alla povertà. Riteniamo però che sia ancora più importante andare in continuità e cercare di migliorare le soluzioni che tentiamo di dare al problema. Oggi ripartiamo sostanzialmente quasi da zero.